Giglia del debutto Casalingo con Verona, Matteo a fare la conta dei disponibili, si sorride un po' di più rispetto al debutto? Sì, sì, diciamo Mancinelli e Italiano ci saranno, Gandini ha risolto almeno parzialmente questo problema alla schiena, poi non bisogna nasconderlo, c'è grande entusiasmo, grande energia perché reincontrarci con i tifosi che ci hanno salutato dopo gara 4 qui in casa con Brescia prima della finale è una cosa che elettrizza tutti, me per primo, e quindi c'è gran voglia di giocare una buona partita contro una squadra di altissimo livello che ha misteriosamente perso male la prima in casa, ma non vorrei che questa sindrome da emozione dell'esordio ci venisse trasferita dai giocatori di Fabrizio Frates. L'anno scorso questo confronto arrivò alla terza giornata di campionato, lo vinceste senza montane e da lì partì la consapevolezza di poter essere protagonisti del campionato, si può dire la stessa cosa per la partita di domani? Sì, l'anno scorso quella fu una vittoria importante ma poi ci furono altre ricadute, ce ne saranno anche quest'anno perché nessuno pensa di vincere 30 partite su 30, però è chiaro che dopo aver vinto le due partite iniziali ufficiali di prestagione nella Supercoppa e aver vinto a Chieti in una situazione oggettivamente complicata, cioè senza tre titolari, confermare quell'atteggiamento nella prima partita in casa, pur senza uno dei nostri due playmaker, cioè Michele Rozea, ma con nove decimi del roster al completo sarebbe una bella prosecuzione anche perché come ho detto ai vostri colleghi, in ottica di qualificazione nelle finale di Coppa Italia mettere quattro punti tra noi e una candidata ha lo stesso risultato nostro, cioè a qualificarsi nei primi otto significherebbe che Verona dovrebbe vincere tre volte più di noi nelle successive 13, che non mi sembra facilissimo. Si giocherà davanti al primo, probabile tutto esaurito di stagione? Ma guarda, ne parlavo qualche giorno fa con un mio amico, io sono sportivamente e amichevolmente un po' geloso del fatto che Yasmin Repes abbia vinto qui uno scudetto importantissimo. Non ti nascondo peraltro che questa punta di gelosia viene in qualche maniera attenuata dal fatto di avere la consapevolezza di aver messo il mio mattoncino personale assieme a quello di tanti altri e partire dalla società per ottenere un risultato molto importante, innanzitutto in termini di risveglio di una comunità solida e appassionata come quella della Fortitudo e poi non nascondo anche da un punto di vista economico partire con una solidità importante ti consente di affrontare il campionato molto più serenamente e di questo va dato merito la società che ha fatto un lavoro di marketing, di comunicazione e di trasmissione dei valori di questa società veramente formidabile.